Salgono ancora i casi di West Nile nel Padovano. L'ultimo bollettino di queste ore parla di 148 contagi da luglio con 69 forme neuroinvasive. I nuovi casi sono stati confermati in persone che vivono al confine tra Padova e Ponte San Nicolò. Per questo le due amministrazioni comunali hanno disposto la disinfestazione notturna con prodotti adulticidi. Il cluster, per essere considerato tale, deve contare almeno due casi nel raggio di due chilometri. Il sindaco di Padova ha firmato l'ordinanza per l'attività di disinfestazione lungo via Bembo, dove si è verificato l'ultimo contagio. L'operazione, d'accordo con l'USL6, si svolgerà nella notte tra il 26 e il 27 agosto, dalle 23.50 alle 4 del mattino. I cittadini, come nelle altre occasioni, sono invitati, in quella fascia oraria prevista per l'intervento, a tenere le finestre chiuse, a portare all'interno gli animali domestici e a proteggere con teli, gli orti e le eventuali piante commestibili presenti in terrazze e giardini. Oltre a prestare la massima attenzione nel non lasciare ristagni d'acqua, dove le zanzare possono depositare le uova. Nuova ordinanza emanata anche a Ponte San Nicolò, dove ci saranno delle disinfestazioni al confine con il comune di Padova. Il sindaco ha pubblicato nel sito del comune nuove disposizioni per contenere la proliferazione delle zanzare che sono il vettore di trasmissione del virus West Nile.